emergenza idrica in arrivo i razionamenti siccità tante difficoltà per gli agricoltori incendio alle cinque torri inagibile un appartamento non solo mostra cna a difesa del cinema indipendente dalla notte bianca la fiesta global l'estate di valle foglia amiche amici di rossini tv benvenuti sul canale 80 del digitale terrestre telegiornale di giovedì 23 giugno che apriamo occupandoci dell'emergenza idrica che rischia di aggravarsi nella regione marche di fronte al perturare dello stato di siccità e infatti in arrivo sia la prospettiva di razionamenti sia la possibile richiesta al governo dello stato di emergenza ancora pochi giorni e la regione marche emanerà un'ordinanza anti sprechi d'acqua che uniformi i razionamenti a livello regionale purtroppo nulla di strano verrebbe da dire perché le limitazioni all'uso dell'acqua idropotabile ad utilizzi come lavaggi di auto e cortili oppure di irrigazioni di orti e giardini durante il giorno sono praticamente diventati la prassi di ogni estate la differenza è che quest'anno simili provvedimenti rischiano di arrivare con almeno un mese d'anticipo e tutta un'estate davanti da affrontare l'assessore regionale stefano guzzi ha annunciato entro la fine del mese un provvedimento che uniformi i razionamenti dei vari comuni a giorni verrà infatti convocato il comitato di coordinamento fra regione e prefetture un argomento che a guzzi ha affrontato ieri durante la conferenza delle regioni col capo della protezione civile nazionale curcio per quel che riguarda la regione marchi ho fatto presente che ci sono già attualmente problemi sia per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e probabilmente si porrà le questioni anche per l'approvvigionamento idrico diciamo per l'uso civile per le nostre abitazioni soprattutto nel nord delle marche dove ad esempio la città di fano la città di pesaro preleva acqua dal fiume metauro la potabilizza poi li mette nelle case il fiume metauro è quasi a secco e ancora non pioverà e questa potrebbe essere una serie emergenza quindi dice curcio che i prossimi giorni si cominceranno ad accettare da parte del governo le richieste di stato d'emergenza che provengono dalle regioni dovranno essere stabilite dei criteri ma tanti criteri sono quelli che già conosciamo l'emergenza in agricoltura l'emergenza zootecnica dove manca acqua per gli animali e soprattutto l'emergenza uso potabile uso civile noi credo che nelle marche queste caratteristiche ai noi ai noi le avremo le abbiamo già in parte e l'avremo nelle prossime settimane quindi nel momento che si potrà fare richiesta allo stato d'emergenza sicuramente le marche faranno questa richiesta però non risolverà il problema non è che poi ci portano all'acqua da roma di conseguenza tutt'al più questo stato d'emergenza potrebbe essere poi un futuro ristoro per chi ha dei danni per chi ha delle spese aggiuntive in provincia di pesaro orbino marche multiservizi ha già aperto i potabilizzatori di pole macerata feltra e mercatello sul metauro un'altra procedura che normalmente viene effettuata a metà luglio marche multiservizi che da anni continua a sollecitare territorio e amministrazioni sul prendere una decisione repentina per realizzare un invaso appello che l'amministratore delegato mauro tv roli aveva sollecitato anche ai microfoni di rossini tv in tempi non sospetti noi soffriamo moltissimo perché abbiamo l'ottanta 4 per cento malcontato di acqua di superficie quindi fiumi che non sono fiumi sono a carattere torrentissimo sorgenti che sono estremamente e posti che sono superficiali e quindi risentono immediatamente troppo velocemente di quello che è l'andamento climatico della siccità proprio per questo abbiamo lanciato anno scorso e oggi si sta riprendendo il ragionamento di realizzare un invaso qualcuno dice che ne servirebbero due forse anche ragione perché sarà l'unico modo per affrontare in futuro l'approvvigionamento idrico quindi l'unico modo intelligente che l'uomo possa affrontare questa tematica è quella di realizzare un invaso per captare le piogge trattenerne e avere un uso importante è in attesa di un provvedimento regionale che uniformi la gestione idrica continuano ad arrivare ordinanze comunali di limitazione al consumo di acqua dopo quella di due giorni fa di monte labbate oggi è il comune di valle foglia a vietare alla cittadinanza l'utilizzo del pubblico acquedotto per usi come quelli di lavaggio auto cortili o piazzali riempimento piscine e fontane l'ordinanza sarà valida fino al 30 settembre i trasgressori rischiano multe comprese fra i 25 e i 500 euro e in questo contesto delicato nella notte fra martedì e mercoledì si è pure registrata una rottura nella condotta principale dell'acquedotto che dal potabilizzatore di calcinelli alimenta le città di pesaro fano e dell'unione dei comuni di pian del bruscolo grazie ai sistemi di telecontrollo i tecnici di marche multiservizi sono riusciti a intervenire tempestivamente con una riparazione durata circa 8 ore per sostituire 15 metri di tubo in fibro cemento con altrettanti metri in tubo di acciaio fortunatamente non si sono registrati disagi nell'erogazione dell'acqua è quello della siccità è un problema che sta colpendo soprattutto gli agricoltori che in questo periodo oltre che con la scarsità dell'acqua devono fare i conti anche con l'aumento dei prezzi dei carburanti e dei concimi il nostro Edoardo Razzi ha intervistato un imprenditore agricolo di Montelabate che però pur ammettendo le difficoltà dimostra anche una grandissima voglia di non abbattersi molti agricoltori in questo periodo hanno riscontrato dei problemi di siccità è un problema veramente esistente o dipende anche dalla modalità di agricoltura che si adotta? Allora è un problema veramente esistente perché noi adesso è arrivata prima un mese prima questa siccità e le piante le verranno a gravare anche dopo tre mesi così i risultati li vediamo anche quest'inverno la prossima estate se hanno dei patimenti le piante è un problema reale perché vediamo che le piante si ammosciano la frutta non riesce a crescere ti porta anche un problema nella potatura dell'anno dopo perché non caccia bene i getti buoni quindi devi sempre ritornare indietro vedere bene dove potare causa anche delle poche piogge che ha fatto quest'inverno quindi le riserve idriche poi dopo le ha fatte un pochino di piogge ma non bastano. Quindi voi avete adottato un sistema innovativo sostenibile di agricoltura proprio per evitare queste queste situazioni simili? Sì un sistema innovativo che abbiamo fatto anche con l'università di Perugia, l'università di Ancona tutti insieme dove andiamo a proprio a risparmiare l'acqua andandola localizzata con gli impianti a goccia gli impianti diciamo di microvisazione dell'acqua. Per poche spreco diamo sei litri d'acqua al giorno a pianta se ce l'abbiamo se ce la facciamo. Oltre a questo problema c'è anche il problema del rincaro dei prezzi per il carburante ma anche per i concimi è un problema che avete vissuto sulla vostra pelle? Lo viviamo tutti i giorni lo viviamo sia nel quotidiano con il rincaro per le auto ma noi lo vediamo anche perché per il trasporto delle pesche giù nei supermercati ai vari posti comunque ci incide parecchio al giornalmente il consumo. Poi non parliamo dei fertilizzanti che quelli costano un occhio dalla testa adesso proprio con questi rincari e noi comunque dovremo dargli la stessa cosa da mangiare le piante non possiamo andare a dar di meno capito quindi abbiamo un costo molto più alto. Ci potrebbero essere in futuro delle soluzioni migliori per cercare di sfruttare l'acqua piovana? Sì ci potrebbero essere che è la pulizia della diga e poi anche quando arriviamo a un certo punto di consumo d'acqua viene tolta solamente alle aziende agricole e pensiamo almeno che sia giusto che venga razionata sia per i comuni che la vanno a prendere e sia per gli agricoltori un razionamento per tutti in base almeno abbiamo l'agricoltura all'acqua per tutta l'estate perché come dicevamo prima ha bisogno la pianta ha bisogno di tutti i giorni di un po' di acqua. Noi siamo sempre fiduciosi del lavoro poi che sia sempre più difficile climaticamente parlando è così dopo ci mettiamo rincaro prezzi guerra tutte queste cose qua è sempre più difficile. Quello della siccità non è un problema solamente che riguarda la salute del frutto e del raccolto ma anche un problema che si estende sulla salute degli insetti e delle api in particolar modo? Certo si si estende anche sulle api perché se noi non innaffiamo ed è tutto asciutto in vicino loro non riescono ad andare a bere anche loro bevono l'acqua. Noi abbiamo delle ciotole vicino dove le riforniamo un po' d'acqua ma non non bastano se invece noi con l'irrigazione e sotto chioma rimane un po' umida la terra loro vanno a prendersi l'acqua anche lì. E dalla mancanza di acqua passiamo al fuoco. Fiamme che hanno invaso ieri il terzo piano di una palazzina di via Lubiana a Pesaro nella zona 5 torri come ci mostrano queste immagini che ci ha inviato un nostro telespettatore che ringraziamo per la segnalazione. Il rogo si è sviluppato intorno alle 22.30 divampando su un appartamento che in quell'ora si presentava vuoto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con autobotti e autoscala fronteggiando l'incendio sia dall'interno che dall'esterno riuscendo così a domare le fiamme in breve tempo. L'appartamento era vuoto al momento dell'incendio ed è stato reso inagibile. Sul posto anche i carabinieri e il 118. E cambiamo argomento. Siamo nel cuore degli eventi della 58esima mostra del cinema ma oltre alle proiezioni c'è anche spazio per tante riflessioni sul presente e sul futuro della categoria delle imprese cinematografiche. Argomento che è stato affrontato questa mattina in un convegno organizzato dalla CNA Cinema Audiovisivo Marche al centro Arti Visive della Pescheria in corso 11 settembre. Un tema che potrete approfondire nel corso di uno speciale che abbiamo realizzato con Rossini TV e che sarà trasmesso martedì 28 giugno del quale però vi forniamo alcune anticipazioni con le interviste di Paolo Pagnini. Un'annata importante per la sezione cinema di CNA. Siamo in piena mostra del cinema e questo convegno di particolare rilevanza pone l'accento sulla crisi del cinema subito dopo la pandemia. Assolutamente sì, non poteva esserci location più indicata. La mostra internazionale a Pesaro è l'orgoglio della città ormai da tantissimi anni e qui vogliamo fare il focus e il punto della situazione di un settore che anche nella nostra regione io penso sia molto sottovalutato. Abbiamo professionisti di ogni genere che riguardano il cinema e l'audiovisivo di grandissima importanza, di grandissima qualità e purtroppo con la pandemia è stato probabilmente il settore che in assoluto ha risentito più di questa grande crisi. Dobbiamo aiutare queste imprese a riprendere il proprio cammino, lo dobbiamo fare con forza, con aiuti importanti, non soltanto di facciata ma davvero concreti. Il cinema indipendente in questo momento sta soffrendo moltissimo e quindi stiamo come CNA Cinema iniziando un processo di contaminazione fra imprese, piccole e medie imprese del territorio per cercare la soluzione, per cercare con la politica di trovare un modo per risollevare la nostra posizione attuale. Questo obiettivo può essere raggiunto innanzitutto con un riconoscimento in qualche modo formale della condizione di produzione indipendente e in qualche modo separando dai finanziamenti pubblici chi fa produzione indipendente dalle major, in qualche modo creare dei percorsi paralleli in modo tale che chi fa questo tipo di impresa, perché alla fine parliamo comunque di micro e piccole imprese che sono la grande maggioranza del discorso produttivo audiovisivo in Italia, possa non solo sostenersi ed entrare nel mercato ma essere forte e portare questo discorso a più persone possibili. Sentendo il convegno mi sembra che qualche segnale positivo stia arrivando. Innanzitutto l'argomento più gradito, i fondi, dal prossimo anno e per cinque anni sono in campo fondi europei per la produzione, per l'esercizio, per la formazione, insomma c'è una vigorosa immissione di risorse per il comparto audiovisivo e questa è una bellissima notizia. E come già anticipato questa mattina il rassegna stampa, dopo le segnalazioni di questi giorni sullo stato di abbandono e degrado che gravita attorno a Rocca Costanza, l'assessore all'operatività Enzo Belloni riferisce come ora sia stata ripulita l'area dei giardini e dei vialetti esterni della Rocca e che martedì è stato effettuato un sopralluogo sul bene demaniale insieme a Sovrintendenza, Archivio di Stato e Aspes per poter iniziare da domani le operazioni di pulizia nelle parti liberate dal cantiere attivo nel complesso. Nel centro di Fano torna la rievocazione storica del Palio delle Contrade, il primo weekend di luglio ci si potrà immergere in un'atmosfera medioevale all'insegno di attività, spettacoli e mercatini fra Corte Malatestiana, Piazza 20 Settembre e, novità di quest'edizione, il Pincio. Sarà la prima vera rievocazione post-Covid, svolta completamente in presenza e partecipata. L'evento è organizzato dal gruppo storico La Pandolfaccia. E da Fano ci spostiamo a Monbaroccio dove torna per due weekend la rassegna Lavanda in Fiore a Monbaroccio e non solo. Appuntamento il 25 e il 26 giugno ed il 2 e 3 luglio. La festa, che si svolge in occasione della fioritura della Lavanda, è aperta a chiunque vorrà immergersi nell'atmosfera del bosco e nella sua gestione dei campi di Lavanda, partecipando a tante iniziative che spazieranno dallo yoga alla scoperta delle erbe officinali. E sabato 25 giugno, alle ore 10, presso lo stand TAV San Martino di Riosalso di Tavullia verrà presentato il libro di Ernesto Paleani, Chiesa San Martino in Foglia, 2000 anni di storia, a cui poi seguirà un convegno coordinato dal Comitato per il Restauro della Chiesa di San Martino che si sta mobilitando per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di restaurare il bene e renderlo fruibile a cittadini e visitatori. Con un programma ricco di appuntamenti, la città di Vallefoglia si prepara a vivere un'estate piena di iniziative e ad accogliere tante persone e turisti in un pacchetto di eventi che vi illustriamo in questo servizio. Rilanciamo con un programma di attività turistiche e culturali che coinvolgono da già alcune settimane tutto il territorio fino alla fine dell'anno. L'ultimo evento sarà quello agroalimentare, sulla valorizzazione del tartufo, dell'olio, del melograno, di tutti i prodotti del territorio, con eventi importanti. Si rimatterrà il 23 la Notte Bianca, l'iniziativa di Tribalex su Montefabri, la Sagra della Polenta con la Proloque. Poi sono tante iniziative di compagnie dialettali, di attività rivolte soprattutto ai bambini, il cinema sotto le stelle, insomma coinvolgendo un po' tutte le borgate, tutte le frazioni che sono tante del comune di Vallefoglia e valorizzando al massimo come è avvenuto col drifting a Talacchio di Vallefoglia, come avverrà con eventi importanti che consentono di promuovere e valorizzare anche il territorio di Vallefoglia. Una programmazione di ripartenza, siamo molto contenti del calendario stirato, sono 30-40 iniziative estive, ripartono gli eventi anche più importanti in collaborazione con le associazioni del territorio, ad esempio con Tribalex ci sarà la famosa Fiesta Global a Montefabri, con la Proloque di Montecchio ripartirà ciocchi fra quartieri, ci saranno la Sagra della Polenta a settembre, nonché la Notte Bianca nel mese di luglio. Iniziative rivolte molto ai giovani, alle famiglie, con cinema all'aperto, con iniziative con clown, comici, piuttosto che letture in collaborazione con la biblioteca, proprio nei plessi della biblioteca e anche all'aperto. Quindi non mancheranno iniziative musicali, musicali di vario genere, musica lirica, musica jazz in quel di Montefabri, e ci sarà anche una tre giorni di commedia dialettale in quel di Morciola di Vallefoglia, località Centovetrine, con tre compagnie locali, una proprio di Vallefoglia, compagnia Improvvisando, una compagnia di Pesaro e una di Montecalvo in Foglia. Concludiamo il nostro Tg parlandovi di una mostra che si chiama P.RA, acronimo di Pesaro Urbino Razionalista. Si tratti di un innovativo progetto espositivo che sarà inaugurato domani, venerdì 24 giugna alle 18.30, ai Musei Civici di Pesaro. Una mostra che ci viene illustrato dal suo curatore Marcello Smarelli. Il progetto nasce da questa idea del Palazzo Comunale di Pesaro che ha visto un processo di recupero di quelle parti che erano proprio tipiche dell'architettura razionalista in cui è stato costruito. Questo ci ha fatto capire che era necessario intervenire su questo patrimonio che non è abbastanza conosciuto ma che soprattutto è coperto da una cappa ideologica perché evidentemente rappresenta un periodo molto complesso. Dunque, però, volevamo liberare questo patrimonio architettonico appunto della parte negativa per recuperare quella percentuale di bellezza che esso conserva nelle sue forme, nella sua preziosità. Dunque, la mostra parte dal Palazzo Comunale ma affronta attraverso un percorso fotografico, attraverso una ricognizione fotografica affidata ad Anton Giulio Nofri, gli edifici più interessanti della provincia di Pesaro Urbino, partendo appunto da Pesaro coinvolgendo Fano ed Urbino. Dunque, in mostra troveremo proprio una ricognizione di questi edifici, piuttosto nei loro particolari che poi gli studenti hanno utilizzato per realizzare delle ceramiche, che è un elemento fondamentale proprio della cultura di questo territorio, che in qualche modo si ispirano a queste forme architettoniche. Questo perché? Perché attraverso l'arte è possibile, come dire, leggere questi edifici e leggere le forme geometriche da cui questi edifici sono costruiti, trasformandoli, trasportandoli, trasmutandoli con un'altra materia. Questo ci sembrava molto interessante e a questo workshop gli studenti hanno lavorato per oltre un anno insieme alla professoressa Francesconi e al ceramista Bertani, realizzando appunto questo corpus di lavori veramente interessante che sorge come da una massa di frammenti di ceramica, ad ulteriore metafora del fatto che la bellezza del patrimonio razionalista deve rinascere appunto da questa idea di distruzione, di disgregazione, che è la vista, come dire, sempre più dimenticata nel corso degli anni. La mostra poi prosegue con una stanza completamente dedicata alla storia del Palazzo Comunale di Pesaro, che fu appunto un'opera dell'architetto Pascoletti, grazie all'archivio Stroppanobili, che è uno scrigno prezioso di materiali per la conoscenza di Pesaro e di tutta la provincia. E poi continua con due stanze dedicate alla collezione Vinci Guerra, che è una collezione acquisita dai musei civici e che è proprio legata ad elementi di arte e di arti applicate che erano state prodotte tra gli anni 20 e gli anni 40, vedri, dipinti, troviamo figure come quella di Sironi, come quella di Prampolini, di artisti futuristi legati a quell'epoca, nel tentativo proprio di ricostruire degli interni ispirati a quell'epoca storica. Dunque, da una parte, le grandi architetture razionaliste, gli interni, il design, la storia, le arti applicate, quindi tutto in questa specie di concerto che ha visto la città funzionare, come una sorta di vasi comunicanti fondamentale per la sfida di Pesaro 24, in cui il climb, la natura della cultura, è completamente rispecchiato da questa mostra che parte veramente dalla riscoperta di un patrimonio da parte dei giovani studenti di una scuola d'arte. Concludiamo il nostro Tg con gli appuntamenti serali di Rossini TV. Su abbiamo una simpaticissima commedia in dialetto che si intitola De Tutto un Po' che andrà in onda questa sera alle 21.20 e da non perdere perché si ride davvero. L'appuntamento con l'informazione domattina in diretta alle 7.20 con il nostro Daniele Sacchi e infine Vox Pop che riassume le voci degli studenti che sono usciti dagli esami di maturità. In onda tutti i venerdì alle ore 19 e alle ore 22.30 che poi con le varie repliche che vedete. È davvero anche questo molto interessante perché ci fa fare il punto sull'appuntamento degli esami di maturità. Carissimi telespettatrici, carissimi telespettatori, con questo è davvero tutto. Abbiamo concluso la nostra edizione serale del Tg. Vi lasciamo una bellissima serata insieme a Rossini TV. Grazie.